Questa è una battaglia di logoramento che elimina tutte le porte nemiche, buona fortuna. Sip, grazie a silo, buona fortuna. Invantaggio, avanti con il giro. Il giro è un giro, il giro è un giro, il giro è un giro è un giro. Il giro è un giro è un giro. Il giro è un giro è un giro. Il giro è un giro, il giro è un giro. Il giro è un giro. Aiuto, aiuto, aiuto. Il PAIJS-1 è pronto all'anno, prontiamolo qua tuoi. E' sposta per scalare, il nemico è in vantaggio. Stanno distanziando troppo! Se vuoi fare qualcosa, fallo in fretta! Non so meglio, hai fatto male. E' finita, ragazzi. Abbiamo perso. Forza a ritiegare. Lascia perdere. Allontanati. Trova il tuo avvero sul centro del trattore femminino. Hai ottenuto i tuoi obiettivi di trasformazione. Molto da qui. Trovati al punto d'estrazione quando arriva alla navicella. Ecco la navicella, sali! Ecco la navicella, sali! Grazie a tutti!